Sindaco, Arco Petrarca, secondo borgo più bello della scorsa edizione del Borgo dei Borghi, in Lizza anche questa volta, ultime ore per poter esprimere il proprio voto per un paese così particolare? Sì, abbiamo fino a giovedì per votare Arco Petrarca, in Lizza tre comuni del Veneto, Follina, Arco Petrarca e Mel. Che cosa ha cambiato il fatto di essere arrivati al secondo posto? Beh, sicuramente abbiamo visto un aumento delle presenze turistiche valutabile nel 30%, quindi un'uscita nazionale in questa formula porta un arricchimento anche al territorio, questa presenza massiccia che è arrivata l'anno scorso. Adesso speriamo di consolidare ancora di più. Le attività che abbiamo messo in campo negli ultimi anni sono tante, questo dà un stimolo maggiore sicuramente a migliorarci e a far vedere ai tanti visitatori Arcoa sempre più bella. Ecco, è tempo di olio, novello, voi siete il simbolo dei Colli Ugani e avete appena terminato la festa. Sì, festa, tante persone che sono arrivate per degustare l'olio novello, questo prodotto di eccellenza, come lo sono tanti altri nei Colli Ugani, dal vino ad altri prodotti, ma l'olio la sta facendo da padrone in questo periodo. Qual è il segreto di Arcoa Petrarca che vince sempre con il suo olio? Forse il microclima. Petrarca è venuto a vivere gli ultimi anni della sua vita, proprio forse perché era un posto oltre che essere tranquillo. Qui c'era anche la parte migliore del clima, racchiusa in questa conca, rivolta a sud dei Colli Ugani, quindi un clima ideale per le culture. Qui c'era anche la parte migliore della sua vita, perché non c'era più che la parte migliore. Grazie a tutti.